In molti in queste ore stanno accostando la tragica fine di Fabrizia Di Lorenzo a quella di Giulio Regeni, due giovani italiani emigrati all'estero per cercare fortuna ma rimasti coinvolti in efferati fatti di cronaca. Al pari del ricercatore italiano ucciso in Egitto, anche la 31enne sulmonese aveva vissuto il sogno dell'integrazione, questa volta però nel cuore dell'Europa, in una Berlino multietnica e culturalmente in fermento. Il destino però ha scoperto le sue carte in maniera drammatica. A nulla è valsa la speranza oravana che quel corpo recuperato assieme alle altri 11 lasciati sul campo dal camion della morte guidato dal 24enne tunisino Anis Amri, su cui pendi un mandato di arresto internazionale non fosse quello dell'Abruzzese. Il test del DNA però, a cui i familiari si sono sottoposti dopo essere arrivati in Germania, purtroppo non ha lasciato scampo. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, poco prima delle 12.50, quando il ministro degli esteri Angelino Alfano, in una nota, ha annunciato la morte della ragazza. Sono affettuosamente vicino alla famiglia e ai suoi cari, condividendone l'immenso dolore, ha dichiarato il titolare della Farnesina, messaggio a cui fa eco quello del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato come, ancora una volta, una nostra giovane connazionale all'estero si è rimasta vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi, il paese si unisce commosso al dolore della famiglia, è quello che ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, unendosi al cordoglio del mondo politico ed istituzionale. Accanto al lutto però non si placano le polemiche. Da un lato l'uscita infelice sui cervelli in fuga del ministro del lavoro Giuliano Poletti, dall'altro le critiche all'ex ministro degli interni Alfano, perché Amri sarebbe partito dall'Italia, dove ha scontato anche quattro anni di carcere. Un ragazzo seguito dai servizi che potrebbe essersi radicalizzato proprio dentro le sbarre. Sulla testa di Amri c'è una taglia da 100.000 euro per chiunque riesca a fornire notizie utili alla cattura. Le ricerche si estendono in tutta Europa, mentre Sulmona tende di riabbracciare per l'ultima volta la sua Fabrizia.